Buongiorno e ben ritrovati gentili telespettatori, questo è il primo ATG delle ore 13 e 30, andiamo con le ultime notizie. Mario Draghi ha sciolto ieri le riserve e ha accettato l'incarico di formare un nuovo governo, il terzo della legislatura, dopo i due esecutivi guidati da Giuseppe Conte, Draghi, 73 anni, e il Presidente del Consiglio dei Ministri. Ed oggi alle 12 c'è stato il giuramento della squadra nelle mani del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La lista dei Ministri è stata letta da Draghi al termine del colloquio con il Capo dello Stato, dei 23 Ministri, 15 sono uomini e 8 sono donne, l'età media di 54 anni, 3 Ministri su 4 vengono da Regioni del Nord. Quanto all'appartenenza politica ci sono 3 Ministri del PD, Franceschini, Orlando e Guerini, 3 della Lega, Giorgetti, Garavaglia e Stefani, 4 dei 5 Stelle, Di Maio, Dincà, Dadone e Patuanelli, 3 di Forza Italia, Carfagna, Brunetta e Gelmini, 1 di Italia Viva, Bonetti, 1 di Leu, Speranza. Gli altri Ministri, 8 su 23, invece, sono tecnici. È arrivato puntuale il bollettino Covid-19 in Italia divulgato dal Ministero della Salute per la giornata di ieri, 12 febbraio, sono 13.908 i nuovi casi delle ultime 24 ore su 305.619 tamponi processati, 316 purtroppo. Le vittime calano invece i ricoveri ordinari meno 206, attualmente sono 18.736, anche le terapie intensive calano con un meno 31, sono attualmente 2.095. Il tasso di positività scende al 4,5%. È arrivato puntuale anche il punto settimanale sui dati dalla cabina di regia. Andiamo ad ascoltare le parole di Gianni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione presso il Ministero della Salute. I casi di Covid-19 nel nostro paese rimangono stazionari rispetto alla scorsa settimana, ma l'incidenza rimane elevata, intorno a 270 casi per 100.000. Mentre cresce di poco l'RT che si fissa a 0,95. Per quanto riguarda l'occupazione dei posti di terapia intensiva siamo intorno al 24%, quindi un po' al di sotto di quella che viene considerata essere la soglia critica. Anche a causa della diffusione delle nuove varianti, la cui prevalenza nel nostro paese è di circa il 18%, è bene mantenere i comportamenti prudenti e il divieto di mobilità da una regione all'altra. L'andamento epidemiologico invece in Campania registra nelle ultime 24 ore per la giornata di ieri, 12 febbraio, 1.637 nuovi casi, di cui 139 identificati da test antigenici rapidi. 1.430 sono gli asintomatici, mentre 68 i sintomatici. Il totale dei tamponi effettuati è stato di 18.393, di cui 3.125 antigenici, mentre 15 sono i decessi, 10 nelle ultime 72 ore e 5. In precedenza il report posti letto su base regionale indica i posti letto di terapia intensiva disponibili 656, di cui occupati 106. Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha fatto il punto sulla situazione dei contagi nelle scuole. Andiamo ad ascoltare le sue parole. Abbiamo registrato nei giorni scorsi una crescita enorme di contagio nella popolazione scolastica, docenti, non docenti, alunni. L'unità di crisi della Regione ha pubblicato i dati di questo aumento di contagio. Ogni tanto mi capita di leggere qualche comunicato dei cosiddetti no-dad. No-dad. Uno degli argomenti, anzi l'unico argomento è questo. Siccome stiamo in zona gialla e siccome si aprono le attività economiche, non si capisce perché non si devono aprire anche le scuole, ribadiamo con molta semplicità che le scuole, quando non si riaprono, non si riaprono per motivi semplici, non solo perché c'è una diffusione crescente dei contagi, non solo perché si cerca di prevenire l'esplosione del contagio, perché se dobbiamo aspettare prima che siano contagiati anche i ragazzi è semplice. È la logica del governo, intervenire quando già il problema si è creato, non prevenirlo. Ma poi si fa fatica a capire che le scuole hanno una caratteristica specifica. Come le hanno i teatri, i cinema? Cioè si cerca di evitare gli assembramenti in luoghi chiusi, dove rimangono per ore ed ore le persone che sono concentrate nei luoghi chiusi. Quindi non si tratta solo di scuole, si tratta, ripeto, di cinema, di teatri, di supermercati sono un'altra cosa, la presenza dura dieci minuti, stai più o meno in locali grandi. Bene, noi abbiamo fornito tutti i dati, noi, l'unità di crisi, e abbiamo responsabilizzato le amministrazioni comunali. Questo anche per evitare la cattiva abitudine che è cresciuta in queste settimane di nascondersi dietro le ordinanze del Presidente della Regione. Cominciamo ad assumerci ognuno le proprie responsabilità. Poi verificheremo nel corso dei prossimi giorni come è l'andamento dell'epidemia. Nel frattempo cercheremo di far partire le vaccinazioni per quanto riguarda il personale scolastico. È attiva la piattaforma Scuola Sicura della Regione, quindi attendiamo che i dirigenti scolastici segnalino il personale disponibile a vaccinarsi, perché, come sapete, la vaccinazione è volontaria. Ad oggi abbiamo avuto mille iscrizioni, sollecitiamo i dirigenti scolastici a fornire quanto più rapidamente possibile l'elenco del personale che richiede la vaccinazione. La vaccinazione è l'unico antitodo vero che abbiamo alla esplosione del contagio. Tutto il resto sono mezze misure. Il divieto di mobilità tra le regioni potrebbe essere prorogato con il plauso dei governatori già nelle prossime ore, almeno per qualche altra settimana, grazie ad un nuovo decreto legge che potrebbe approdare nelle prossime ore in consiglio di ministri ad hoc. La pista da sci pronte a partire dal prossimo 15 febbraio con ingressi scaglionati resterebbero quindi limitate al turismo di prossimità e ai proprietari delle seconde case. Oltre alla proroga dello stop alla mobilità, i territori guardano però già oltre la scadenza dell'attuale DPCM. Cioè tra una ventina di giorni sul nuovo provvedimento che porterebbe la firma quindi del nuovo premier Mario Draghi, i governatori chiedono di valutare possibili e graduali riaperture come per cinema, palestre e teatri con ingressi contingentati. Il limite potrebbe essere protratto fino al prossimo 5 marzo, ultima data in cui l'attuale DPCM è in vigore, allineando così tutte le scadenze sulle misure restrittive per l'emergenza. Covid-19 ma al momento non si può escludere anche l'ipotesi di un provvedimento ponte più breve e valido soltanto per una decina di giorni in attesa dell'insediamento della nuova squadra di ministri. Al di là degli scenari all'orizzonte del prossimo esecutivo in queste ore, i risultati del prossimo report dell'Istituto Superiore di Sanità quasi certo decreteranno il ritorno di Toscana e Abruzzo alla fascia arancione che attualmente è già assegnata a due regioni, cioè l'Umbria e la Sicilia. Al contrario invece il governatore campano Vincenzo De Luca chiede misure straordinarie per il weekend in atto nel quale avremo il carnevale e la festa di San Valentino per il contenimento degli assembramenti. Un caso a parte invece è l'Umbria che rischia di diventare rossa mentre potrebbero aumentare anche le zone mini rosse disposte per contenere il dilagare di nuovi diversi ceppi del virus. Importanti comunicazioni sono arrivate dal sindaco di Avellino Gianluca Festa in merito alle scuole. Andiamo ad ascoltare le sue parole in diretta Facebook. Ho appena firmato l'ordinanza con la quale ho disposto per domani la chiusura di tutte le scuole cittadine. Stamattina ci è pervenuta una comunicazione relativa all'allerta meteo per domani quindi ho reputato necessario provvedere alla chiusura di tutti gli istituti scolastici cittadini per evitare rischi per i nostri ragazzi. Cologo l'occasione anche per preannunciarvi la proroga della mia ordinanza relativa alle scuole superiori quindi per almeno un'altra settimana si continuerà con la DAD ma c'è anche una buona notizia partirà a breve lo screening per i docenti e per il personale ATA e allo stesso tempo il comune è disponibile ad effettuare anche i tamponi rapidi agli allunni delle scuole superiori. Come ho sempre detto le lezioni riprenderanno in presenza solo quando avrò la garanzia che non ci sono rischi per i nostri ragazzi. Il nuovo aggiornamento della curva pandemica sul territorio di Caserta con il bollettino del 12 febbraio a cura dell'ASL locale recita 183 nuove persone positive a cui si aggiungono 181 guariti e per fortuna nessun deceduto. I tamponi processati sono stati 1836 per un tasso di incidenza che sale leggermente arrivando al 9,9%. Maddaloni torna in cima per numero di contagi con 226 Caserta scende fino a 214. Alle spalle c'è il Marcianise con 164 attualmente positivi. Un terribile incendio ha messo in ginocchio una baraccopoli abitata da extracomunitari a parete come riportato ai colleghi dell'ANSA. Il campo è abitato da migranti impegnati. In diversi lavori agricoli i vigili del fuoco sono a lavoro per spegnere tutte le fiamme durante il salvataggio. da parte degli stessi è stato ritrovato anche il corpo di un uomo. Al momento però non si possono escludere anche altre vittime. Passiamo invece alla pagina sportiva perché il Napoli oggi alle ore 18 allo stadio Diego Armando Maradona affronta la Juventus. Il Napoli per la riscossa la Juventus per continuare la risalita in classifica. Gli azzurri cercano una vittoria fondamentale per uscire da un momento delicatissimo. Intanto Gennaro Gattuso rischia anche se per il momento De Laurentiis ha confermato la fiducia al proprio tecnico. Umore opposto invece per Andrea Pirlo, il tecnico bianconero perché la sua Juve è in piena risalita. Al momento terza a meno sette dal Milan capolista ma con una partita in meno. Le scelte sono quasi obbligate per il Napoli perché sono fuori anche Isai e Dem. Oltre ai noti Manolas, Koulibaly e Mertens, Osimen si gioca il posto dal primo minuto con Petagna. Qui c'è anche un ballottaggio sulla tre quarti con Politano, Lozano e Insigne che potrebbero giocare tutti e tre dal primo minuto. Con Zielinski arretrato a centrocampo. Invece i bianconeri saranno senza Di Bala, Ramsey e con Bonucci in forse. Andiamo a leggere un attimo le formazioni. Il Napoli si schiererebbe con il 4-2-3-1 con Ospina in porta. Di Lorenzo, Rachmani, Maximovic e Mario Rui in difesa. Bacaioco e Zielinski a formare la diga a centrocampo con Politano, Insigne e Lozano alle spalle di Osimen. Mentre la Juventus con il solito 4-4-2 con Scesni in porta, Quadrado, De Ligt, Chiellini e Danilo in difesa. Quindi Alexandro fuori, Bernardeschi e Chiesa esterni di centrocampo con Bentancur e Rabiot in mezzo. Ricordiamo che Arthur non ci sarà davanti la coppia formata da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Chiudiamo sempre con il calcio, però parliamo di Benevento 1-1 nel primo anticipo della 22esima di Serie A dall'Ara di Bologna. Quindi i Felsini insieme al Benevento si sono divisi la posta in palio. I Felsini che hanno sbloccato subito il match dopo appena 50 secondi con Sansone imbeccato bene da una gran giocata di Barro. La squadra di Mialovic ha giocato un ottimo primo tempo e ha sfiorato più volte il raddoppio. La reazione dei Sanniti è arrivata solo nella ripresa che ha fruttato il pareggio al minuto 60 grazie ad un tacco di Nikolas Viola che ha sfruttato un'uscita al vuoto del portiere polacco Skorupski. I ragazzi di Inzaghi ci hanno anche provato nel finale ma il risultato ha retto. Un buon punto per entrambe in ottica salvezza al termine di una partita comunque molto equilibrata. Filippo Inzaghi tecnico del Benevento ha parlato del pareggio a fine partita abbiamo avuto una buona reazione ma dobbiamo migliorare alcune situazioni soprattutto nella lettura come ad esempio prendere gol dopo pochi secondi a difesa. Schierata il presidente è venuto negli spogliatoi ed ha usato belle parole per i ragazzi dobbiamo credere nella salvezza abbiamo provato a vincere oggi in tutti i modi anche con i cambi offensivi alla fine il pareggio non è un risultato cattivo e ci sta per l'andamento della partita. Per questa edizione di PrimaTG è tutto appuntamento tra qualche ora sempre sui nostri canali un caloroso arrivederci.